E voglio dare la parola ora a Lucia. Ciao Lucia. Ciao a tutti, ciao Sara, io sono Lucia Frascadore. Io sono Alice Passamonti. Siamo volontari del gruppo di Roma di Medici Senza Frontiere. Benvenute. Grazie. Vi chiederete che ci fanno i volontari di Medici Senza Frontiere all'interno degli spazi di Federtrek. E allora innanzitutto li ringraziamo di questi spazi e li ringraziamo che ci fanno parlare della nostra campagna Milioni di Passi. L'amicizia con Federtrek nasce nel 2015 quando la Federtrek sin da subito dal suo lancio della campagna ha aderito alla campagna Milioni di Passi e Medici Senza Frontiere Italia ha a sua volta aderito alla giornata internazionale del camminare partecipando in diverse città italiane attraverso i gruppi locali, quindi da Verona alla Sicilia abbiamo gruppi locali in tutta Italia partecipando alla giornata con delle camminate simboliche proprio per testimoniare con la campagna Milioni di Passi e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle migrazioni forzate che è una vera emergenza umanitaria attuale in molte parti del mondo. Lucia ci puoi dire chi è Medici Senza Frontiere e soprattutto di che cosa si occupa? Medici Senza Frontiere è un'organizzazione internazionale indipendente che fornisce assistenza medica di qualità in emergenze umanitarie. Abbiamo moltissimi progetti in oltre 60 paesi nel mondo, le attività di Medici Senza Frontiere spaziano dalla gestione di ospedali da campo, di cliniche mobili, centri per la malnutrizione, ci occupiamo di chirurgia di guerra, chirurgia rutinaria, lotta contro le epidemie come HIV, TBC, tibercolosi, come Ebola, come l'emergenza, quella recente 2014-2015 e forniamo anche assistenza psicologica alle vittime di traumi. MSF è indipendente, imparziale e neutrale, non è vincolata ad alcuna agenda religiosa e politica e fornisce assistenza medica a tutti a prescindere dalla loro appartenenza etnica, religiosa o politica secondo i principi dell'etica medica. Questo vuol dire che in un ospedale di MSF voi potreste trovare accanto a un civile ferito un militare ferito della fazione opposta, proprio perché le armi e i conflitti rimangono fuori dalle porte dei nostri ospedali. I principi di imparzialità e di naturalità però non vogliono dire che MSF rimane in silenzio, di quando MSF testimonia violazioni e violenza estrema nei confronti di persone o gruppi di persone, lo denuncia sempre pubblicamente. L'indipendenza è resa possibile dalle donazioni che sono per lo più private. Addirittura in Italia il 99% delle donazioni e dei fondi arrivano da donatori privati. Anche un semplice rid bancario mensile consente all'associazione di fornire assistenza medica indipendente. Lucia, ma quali sono le persone che partono con Medici Senza Frontiere? Allora, ogni giorno migliaia di persone operano nei progetti di MSF. Ci sono operatori locali, reclutati localmente o espatriati, reclutati dalle 23 sezioni internazionali di MSF. Partono con MSF non solo profili sanitari, quindi medici, infermieri, tecnici di laboratorio, ma anche profili tecnici come ingegneri, architetti addetti alla potabilizzazione dell'acqua o personale amministrativo che si occupa di gestire le risorse finanziarie del progetto, di reclutare personale sul posto. È importante dire che nel 2016 l'Italia ha contribuito con, sono partiti dall'Italia più di 200 espatriati e il contributo dell'Italia è molto importante al movimento internazionale in termini di operatori umanitari forniti al movimento. Lucia, ci spieghi chi sono i gruppi locali invece? I gruppi locali come me e Alice sono persone che magari fanno altri lavori nella vita, ma che dedicano parte del loro tempo libero a promuovere quello che è il mandato, i principi di MSF attraverso iniziative locali di sensibilizzazione e di raccolta fondi o anche ad esempio intervenendo nelle scuole. Bene, voi siete qui stasera per parlarci in particolar modo della campagna Milioni di Passi, quindi ci volete spiegare che cos'è questa campagna Milioni di Passi? Sì, dunque, Medici Senza Frontiere ha lanciato questa campagna Milioni di Passi nel 2015 con l'intenzione di dare voce alle persone che fuggono da violenze e persecuzioni per fare in modo che la società civile e l'opinione pubblica potessero conoscere le loro condizioni di sofferenza. Milioni di Passi sono i passi che compiono i profughi, gli sfollati, che abbandonano il loro paese a causa dei conflitti, ma sono anche i passi che gli operatori di Medici Senza Frontiere compiono quando portano assistenza medica a queste popolazioni in movimento. e secondo l'associazione sono anche i passi che ciascuno di noi può compiere per dare un sostegno all'azione umanitaria di Medici Senza Frontiere, ma anche alla sua attività di denuncia. Con questa campagna l'associazione vuole infatti denunciare anche quello che accade in questi paesi e chiede soprattutto la creazione di canali sicuri di ingresso in Europa, ma anche di assicurare un soccorso in mare e di assicurare un'accoglienza dignitosa a queste persone. Le popolazioni in movimento nel mondo sono, parliamo di oltre 60 milioni di persone, molti sono sfollati interni, molti si spostano nei paesi limitropi, ma nell'Africa subsahariana, molti invece percorrono un viaggio molto lungo e molto spesso a piedi. Non a caso il simbolo della campagna Milioni di Passi sono diventate proprio le scarpe di queste persone in fuga, le scarpe che la fotografa Shannon Jensen ha fotografato nel 2012 seguendo l'esodo di decine di migliaia di persone che fuggivano dal Sudan verso il Sud Sudan proprio per scappare dai combattimenti dell'esercito, da un conflitto all'interno del paese. Medici Senza Frontiere ha seguito quest'esodo portando un'assistenza medica, portando acqua potabile ai rifugiati, ma soprattutto accanto a quest'azione medica ha voluto denunciare una risposta umanitaria internazionale che riteneva inadeguata. E proprio per questo queste scarpe così consumate dal viaggio sono diventate il simbolo della campagna Milioni di Passi. Alicia, ci spieghi da che cosa fuggono queste persone? Dunque, queste persone fuggono dai conflitti che ci sono all'interno dei loro paesi, ma sono anche famiglie vittime di disastri naturali. e fuggono quindi da paesi diversi per motivi diversi che spesso sono anche correlati fra loro. Ad esempio in Siria, Iraq, Sud Sudan, Yemen e Somalia fuggono principalmente dalle guerre. Dal Mali fuggono per inestabilità politica e militare, dall'Eritrea, dal Gambia per regimi oppressivi, dal Senegal, dalla Costa d'Avorio, dalla Tunisia per la povertà, povertà estrema. Un esempio di un paese che purtroppo è al centro delle cronache tutti i giorni è la Siria, perché in Siria ci sono oltre 13 milioni di persone che sono in stato di necessità all'interno del paese. In più ci sono 6 milioni di sfollati interni e quasi 5 milioni di persone che hanno deciso di lasciare il paese e che adesso sono accolte nei paesi vicini, come Turchia, Libano, Egitto e Giordania. Medici Senza Frontiere è presente in Siria con una serie di attività, gestisce alcune strutture mediche e supporta centri sanitari e ospedali in tutto il paese. Bisogna ricordare che le persone in fuga in tutto il mondo, da guerre, conflitti, povertà, compiono un passo che è quello della fuga appunto, e poi un altro passo che è quello del viaggio. Quindi si mettono in cammino e molti di loro attraversano il deserto, i migranti subsahariani attraversano il deserto del Sahara, e poi tentano anche la traversata del Mediterraneo. E purtroppo nel momento in cui arrivano alle nostre frontiere, che possono essere quelle della rotta balcanica o quelle anche della Libia, del Mediterraneo, spesso trovano un muro, che può essere un muro di filo spinato, come nel caso appunto della rotta balcanica, ma anche un muro virtuale, immaginario, che è quello che è stato innalzato stipulando una serie di accordi che Medici Senza Frontiere considera disumani. Tra questi l'ultimo è quello fra Italia e Libia. E questo è anche il motivo per cui oggi Medici Senza Frontiere ha deciso di partecipare, insieme a tante altre organizzazioni, a una mobilitazione, Not My Europe, proprio per opporsi a questi muri, a questi blocchi di persone nel deserto. Parliamo di bambini, donne e anche persone disabili a volte. E proprio per questo appunto vuole ribadire il suo no a questi accordi disumani. Noi volontari del Gruppo di Roma eravamo presenti, abbiamo intervistato François Dumont, direttore comunicazione di Medici Senza Frontiere Italia, che ci ha parlato di questa mobilitazione, e Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere Italia, che ha risposto alle accuse che in queste settimane vengono mosse a molte organizzazioni non governative che si occupano del soccorso in mare. Vi facciamo ascoltare questa intervista che io e Lucia abbiamo realizzato per Radio Impegno. Grazie. Oggi siamo qui con 40 organizzazioni, associazioni e la società civile, per mandare un messaggio all'Europa, di cui i leader si sono radunati oggi a Roma per l'anniversario dei trattati. Mandare un messaggio forte, un no forte, che si chiama Not My Europe, quindi un no alle politiche migratorie europee, che sono politiche di muri, di filo spinato, di blocchi, e di accordi disumani con paesi terzi come la Libia, per esempio, che è politiche che costringono le persone che cercano protezione a prendere delle strade sempre più pericolose, sempre più spaventose, mortali, come vediamo nel Mediterraneo oggi, per esempio. Quindi qui sul Tevere, vicino a Castel Sant'Angelo, oggi abbiamo questa installazione, una zattera gigantesca con la bandiera europea dietro di me. Questa zattera potrebbe essere la zattera della salvezza, simbolizzare un'Europa che salva chi fugge, che aiuta chi fugge, e purtroppo in realtà non lo è. È una zattera circondata da filo spinato, filo spinato che rappresenta queste politiche di deterrenza e di chiusura che creano tutta questa sofferenza. Quindi per questo oggi Medici Senza Frontiere e tutta questa quarantina di organizzazione, con tantissima gente che è venuta durante la manifestazione, e abbiamo mandato questo messaggio per delle politiche più umane, più solidale ai leader europei, spediamo di essere sentiti. Qui sulle rive del Tevere abbiamo inoltre alla zattera anche dei bodybugs, i cosiddetti bodybugs, che sono i sacchi mortuari per i cadaveri, che purtroppo rappresentano proprio l'immagine che vediamo spesso sui media anche un paio di giorni fa sulle coste libiche, persone che hanno negato, che sono morte nel Mediterraneo. Sacchi mortuari che vediamo anche due giorni fa sulle navi di ricerca e soccorso in mare con persone che sono state recuperate e con tantissime altre persone, non sappiamo quante sono state anche scomparse, sono sparite. E abbiamo anche una gabbia con degli esseri umani dentro, quindi delle persone, i volontari che erano oggi durante la manifestazione che rappresentano i rifugiati, i migranti che sono incarcerati in Libia, che subiscono violenze, tortura, stupri e vivono in condizioni ingeniche e inaccettabili. Quindi oggi l'Europa vuole siglare degli accordi con paesi come la Libia per impedire le persone di raggiungere il continente, cercare protezioni, ma noi diciamo attraverso questa installazione oggi che paesi come la Libia non possono per niente garantire questa sicurezza, questa protezione, sono paesi, situazioni in cui le persone non possono essere che vittime di violenze e di sofferenze inaccettabili. Medici Senza Frontiere e le altre organizzazioni che svolgono attività di soccorso in mare lo fanno nel rispetto di quello che è il quadro legale del soccorso in mare, delle convenzioni che obbligano i comandanti di nave a portare il soccorso e sotto il pieno coordinamento della Guardia Costiera italiana e delle autorità italiane che definiscono le modalità di intervento e stabiliscono i porti di sbarco. Allora eccoci, bentornati su Radio Impegno. Ricordiamo sempre che siamo in diretta streaming sul sito di Radio Impegno www.radioimpegno.it e sulla pagina Facebook di Radio Impegno e siamo anche in diretta audio sulle frequenze 97.7 di Radio Città Futura. Abbiamo sentito i contributi di François Dumont e Marco Bertotto di Medici Senza Frontiere Italia. I migranti dopo aver attraversato il Mediterraneo e aver fatto un lungo viaggio approdano ai porti italiani e vengono inseriti nel sistema di accoglienza. Di questo parliamo con Giuseppe De Mola, Civil Society Officer di Medici Senza Frontiere Italia che dovremmo avere al telefono in diretta adesso. Giuseppe ci sei? Sì, eccomi. Ciao Giuseppe. Ciao. Benvenuto in diretta su Radio Impegno. Buonanotte. Bene. Sei in giro, sei a casa, che fai di bello? Ti abbiamo disturbato dove? A casa, a casa. Bene, meno male. Non mi avete disturbato. Ottimo. Allora, ti vogliamo chiedere Giuseppe, il sistema di accoglienza italiano, perché produce marginalità e cosa sono i siti informali? Allora, produce marginalità perché attualmente in Italia abbiamo 180.000 persone in accoglienza nelle varie tipologie di centri. e soltanto in un centro su sei si attuano servizi e si forniscono servizi mirati all'inclusione sociale. Quindi soltanto un centro su sei. Vuol dire che negli altri centri, nella stragrande maggioranza dei centri, in realtà non si fornisce nessun servizio finalizzato all'inclusione. Quindi parlo di corsi di italiano, corsi di orientamento al lavoro, accompagnamento alla ricerca abitativa. Per cui tutte le persone alla fine del periodo dell'accoglienza si ritrovano letteralmente in strada senza avere strumenti per inserimento e l'inclusione sociale. Questo, ripeto, parlando di 180.000 persone in accoglienza, se pensiamo che appunto la stragrande maggioranza sono centri dove si condisce stanto vitto e alloggio, è facilmente comprensibile perché è appunto un sistema che produce marginalità. E quindi molte persone, una volta al di fuori di questo sistema di accoglienza, ci sono i siti informali. Che cosa sono esattamente? Sì, appunto, come dicevo, dopo la fine del periodo di accoglienza, quindi quando la procedura di asilo è a termine, i migranti escono dai centri con un permesso di soggiorno per protezione internazionale oppure con un diniego della protezione. Quindi si ritrovano in strada, nell'impossibilità tra l'altro anche di attraversare le frontiere per frecarsi in altri stati, quindi sono costretti a restare in Italia. A quel punto l'unica possibilità è appunto aggregarsi a questi insediamenti informati, che ci sono un po' in tutta Italia. Nel 2015 noi abbiamo mappati circa 40. Allora, cosa sono questi insediamenti informali? Ci sono di varie tipologie. Vanno dagli edifici occupati nelle grandi metropoli. Ad esempio Roma abbiamo almeno tre di questi edifici. Parliamo di edifici con 600-700 persone, quindi anche abbastanza grossi come insediamenti. A Torino c'è un insediamento, quattro palazzine occupate. In realtà nessuno sa bene quanta gente vive in queste palazzine, ma una stima parla di 1300 persone e parlo appunto di uomini, donne e anche bambini. Quindi queste sono le grandi città. Qui nel sud Italia ci sono invece i veri e propri baraccopoli. Penso ad esempio a Rosarno, piuttosto che ad alcuni siti in Puglia. Quindi sono siti in contesti rurali dove la presenza di questi insediamenti informali poi si unisce anche a tutto il discorso del lavoro agricolo stagionale perché in realtà queste persone poi finiscono nel circuito dei laboratori agricoli stagionali. E quindi sfruttamento lavorativo, marginalità sociale, chiettizzazione e tutto ciò che è connesso a questi fenomeni. Come stavi dicendo, questi insediamenti informali sono diffusi in tutta Italia, purtroppo da nord a sud senza distinzioni. Medici Senza Frontiere non si è limitata a mappare questi siti e a rilevare una serie di criticità che ci sono all'interno, anche con un'attività di denuncia, ma è intervenuta anche concretamente e lo ha fatto in alcune città. Ad esempio mi viene in mente Torino, dove è nato un progetto pilota che coinvolge anche un gruppo locale. Ci puoi spiegare esattamente qual è il tipo di intervento che c'è in questo momento, in questa città? Sì, diciamo che non si tratta di un progetto vero e proprio di MSER, cioè non ci sono operazioni mediche, non ci sono appunto medici, ma sono volontari di MSER che stanno realizzando un progetto di orientamento sanitario ai servizi territoriali dell'azienda sanitaria locale. Per noi è molto importante appunto non ricreare un sistema sanitario parallelo, voglio dire a Torino c'è un'azienda sanitaria che funziona bene, quello che non funziona appunto è l'orientamento, l'accesso ai servizi sanitari, di informazione capillare all'interno dell'inseriamento informale, spiegando alle persone come accede appunto ai servizi territoriali. È quello che stiamo facendo a Torino, stiamo facendo anche a Bari e cercheremo insomma anche di riampliare questo genere di attività anche in altri contesti. All'interno di questa struttura ci sono anche, oltre a rifugiati richiedenti asilo, anche i transitanti. I transitanti progressivamente sono diminuiti in questo periodo per via della chiusura delle frontiere nel nord Italia e anche per alcune procedure di identificazione che sono diventate sempre più rigide negli hotspot. Voi però anche come Missione Italia state cercando di portare assistenza anche supportando la società civile. In questo caso appunto come state intervenendo, in particolare a Como Ventimiglia? Sì, a Como Ventimiglia ci sono in realtà due progetti veri e propri, ci sono invece delle attività medicali, sia supporto psicologico di base in entrambi i siti, sia in particolare a Ventimiglia un progetto di supporto alle donne, quindi un progetto di salute della donna. Quindi sia Como che a Ventimiglia, ma non soltanto in questi siti, c'è quello di cui MSF si è reso conto, e non soltanto in Italia, ma in realtà dalla crisi nei Balcani, è che per poter intervenire in maniera più efficace è assolutamente necessario collaborare, trovare delle forme di collaborazione con tutti quei soggetti più o meno formali, più o meno strutturati, che si occupano di, che supportano i miranti appunto dagli sbarchi, dagli hotspot, fino ai confini. E quindi quello che stiamo provando a fare da almeno un anno è appunto un lavoro di rete, di networking con la società civile, cercare di supportare dove possiamo, ma in realtà molto spesso sono loro che supportano le attività, i progetti di MSF con una serie di interventi molto concreti e efficaci. Giuseppe, ti ringraziamo tantissimo per questo tuo intervento veramente prezioso, ti ringraziamo davvero di averci risposto a quest'ora della notte, e quindi ti auguriamo davvero buonanotte. Grazie. Ciao, ciao Giuseppe. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. Allora, diciamo che il nostro intervento si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di puntata, vi ricordiamo che anche noi come Gruppo di Roma abbiamo una pagina Facebook, Medici Senza Frontiere Gruppo di Roma, e che se volete appunto potete, a cui potete collegarvi, e non ci resta che dirvi buon ascolto con gli amici di Federtrecca. Buon ascolto. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.